comunque quindi non ci costa niente armata raga abbiamo due minuti veloci hanno attivato un esplosivo nucleare a tempo disarmalo orca puttana questi sono fortissimi raga raga abbiamo un minuto e mezzo possiamo andare solo andiamo qua andiamo a chiare la balena e andiamo a pushare a questi non possiamo fare altro c'è un veicolo non abbiamo proprio tempo per fare altro vado qui un minuto e diciannove non so manco se c'è la faremo porta la squadra alla zona sicura nessuno deve restare indietro mi piace perché comunque sto andando solo io cioè 40 secondi siamo tutti morti deve andare sulla nuca mica da me disarma quella bomba il tempo stringe disinnesca 4 3 2 1 disinnesca ragazzi mi devono fare un cazzo di pompino mi devono fare un cazzo di pompino mi devono mi devono fare un cazzo di pompino attravo